ma particolare ecco qui voglio sintetizzare un po tutto su questo vedete queste due forme sono state prenotate dalla sindaca di bormio per le olimpiadi verranno messe all'asta tutta la stampa estera quando c'è l'inaugurazione ma capite il significato che è importante signori ci vuol dire al mondo ci sono cose anche più buone di questo ma questo l'abbiamo solo noi